Ciao ragazzi, prima di iniziare col video vi faccio un piccolo minuto in un sponsor dove se volete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente contagiosi ci sono gli amici di Eneba e potete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente bassi oppure se volete delle gift card potete andare sul sito, sul loro sito di Eneba, degli amici di Eneba vi lascio il link qui sotto e pure in descrizione e niente, vi lascio al video, ciao ragazzi cioè se sono insoddisfatti non riesco a capire perché sono così andiamo a pagare nel frattempo non hai abbastanza soldi, asfida asfida 200, cavolo andiamo ad aprire devo pagare le bollette e prendere le slips ragazzi sì, 20 dollari dopo alcune sono le 26 allora andiamo a prendere le slips accessori slips 26 dollari e andiamo a pagare le bollette ahah sono povero devo prendere anche l'accademia rotta che mi è finito allora table top accademia rotta 76 ne posso prendere solamente uno per il momento andiamo a prenderlo lo apriamo prezzo di mercato più iva prezzo di mercato più iva qua ne abbiamo parecchie da mettere un'altra qua ok allora dobbiamo prendere il set base che è quasi finito chilometri che è fissuto qui 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 qua qui qui perfetto i nuovi box ci sono poi le pokeball ci sono questi ci sono i deodoranti profumi allora ordine accessori i profumi 74 149 ne prendiamo solamente uno acquista e questo li mettiamo qua due carte una e due quale mancano altre due una e due una e due perfetto e raggio e tactrix 13 dollari ottimo allora andiamo a comprare dei box di destino di paldea uno e questi qua allora devo prendere un altro box ok prezzo di mercato più iva qua ne abbiamo un'altra da mettere perfetto volendo possiamo prendere un'altra stagliera per ora vorrei mettere i veloci su quella scaffale per il momento allora fammi andare a vedere ordine action figure 500 costa questo di charmander quindi aspettiamo un altro po e prendiamo questo di charmander intanto mi apro un altro pacchetto e a 500 dollari ragazzi ci prendiamo il peluche di charmander e riusci la medizione argento 22 dollari andiamo ad accendere la luce del negozio se non si vede un tubero ci andiamo a mettere questa bella full hat prezzo di mercato più iva va a 70 dollari questo Reshiram qui ci sono altre cattozze da mettere prezzo di mercato più iva poi ce ne va una siamo a 500 possiamo comprare il peluche di charmander ok direi di andare a fare l'ordine del peluche action figure peluche di charmander 136 cavoli costa eccola qua ordine action figure e andiamo a prendere l'action figure di charmander 12 pezzi quanto se ne vanno? eh è voglia andiamo a mettere prezzo vanno a 14 dollari vanno a 14 dollari i peluche di charmander ottimo Allora Ehi Pensavo che ci erano andati a prendere i veloci di Charmander Entei 17 dollari di carta ragazzi Ottimo Qua ce ne mancano due Qua ce ne vanno tre Una, due e tre Prezzo di mercato più IVA Prezzo di mercato più IVA Qua altre due Una e due Qua un'altra E qua un'altra Ottimo Qua sta finendo un profumo che andiamo subito a mettere Come ho messo uno spazio Devo prendere Allora Un altro Di questo E 67 Di questo 134 So Spazio Cira negozio, che vuoi finire il giorno amico ha preso il primo peluche ottimo, qua mancherebbe una carta, qua un'altra, 3 ore e 30, qua ne mettiamo un'altra ancora questi due stanno giocando, dai ragazzi dai abbiamo fatto ottimi progressi, abbiamo comprato anche i peluche di Charmander, qua manca l'ultimo accademia lotta che domani lo comprerò, questo è rimasto solamente lui, appena finisce di pagare questo, terminiamo la giornata ok nuovi insoddisfatti ciao ragazzi se volete comprare il mio merchandising vi lascio il sito qui sotto in descrizione ci sono le felpe come questa che indosso io con il mio logo qui oppure oltre alle felpe ci sono le t-shirts in vari colori ragazzi e niente detto questo qui sotto in descrizione troverete il link sul loro sito l'ordinato che vi arrivo a casa e niente ciao a tutti belli ciao 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 ciao